lo utilizziamo per per andare appunto in resistenza fai quello che vuoi non sono problemi fai pure come vuoi preferito fai sempre l'avvocato poi si 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 c'è l'avvocato ma dico guarda almeno noi ti paghiamo il panino questi momenti di gloria che così vabbè ascolta allora io direi mi piace prendo un po d'acqua e la metto qua ti piace assolutamente quando ho letto la tua biografia mi sono sentito giovane anche io mi sento giovane però quando leggo la biografia dico forse se Robert ma come il caso lo fai insomma ho avuto tante vite in una vita ecco bello 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 la intitoleremo tante vite in una vita bene bellissimo è un libro vorrei scrivere un libro tante vite in una vita quindi spoileriamo anche il libro adesso 3 2 1 via